Abbiamo fatto un numero speciale sull'arte, abbiamo sacrificato la moda, l'arte ormai fa parte della vita di tutti, quindi è una questione di stile, fa parte della vita, fa parte del nostro giornale. Non voglio solo fare un giornale di moda, ma voglio fare un giornale di stile, quindi l'arte funziona. Grazie a tutti. In order to love, child, we got to be strong. I'm caught in my crossbow, why can't we get along? Cause you and me, we're meant to be, walking free, in harmony, one fine day, we'll fly away. Quello che unisce più che la moda e il divertimento, la moda e l'arte. Io penso che sia un connubio che da quando sono nate entrambe sia estremamente forte. Ripeterò assolutamente. Ripeterò assolutamente. Ripeterò assolutamente. Ripeterò assolutamente. Ripeterò assolutamente.